Ciao ragazzi e benvenuti in questo prossimo video Oggi farò una challenge che non ha portato proprio nessuno sul proprio canale Ovvero Try Not Sing Challenge Devo cercare di non cantare ad una musica Spero che il video vi piacerà Io direi di incominciare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti